Musica E anche quest'anno ci esibiamo in cucina per Natale Cosa faremo? Musica 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 Allora qui per preparare il per far diventare l'impasto verde ho fatto bollire delle boragini che poi ho frullato e quindi adesso vado a mischiare a impastare la farina uova e con le boragini frullate. Musica 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.